Amici del Giro d'Italia di Handbike, salve a tutti da Alex Zanardi. Inizio questo mio video un po' artigianale scusandomi per la mia assenza, ma è un'assenza giustificata visto che mentre voi state facendo gli ultimi preparativi per questa vostra manifestazione inaugurale io sono in Abruzzo con i miei colleghi e compagni della Nazionale Italiana Paraciclistica a fare forse uno dei primi, ma comunque uno dei passi decisivi verso quello che quest'anno sarà per noi tutti l'appuntamento più importante, cioè i giochi paralimpici di Rio de Janeiro. Un appuntamento che sicuramente potrà essere anche una luce, un faro per tanti ragazzi che si cimenteranno nelle gare da voi organizzate, è un Giro d'Italia di Handbike che negli anni è cresciuto tantissimo, che io sostengo col cuore, mi spiace davvero non poter essere con voi e farlo in prima persona, ma mi auguro ci possa essere l'occasione durante il percorso visto che le tappe sono tante, il giro è cresciuto, il numero dei partecipanti è in continuo aumento e il fatto che il vostro impegno sia premiato dai risultati che state ottenendo è una cosa che scalda il cuore, logicamente per chi condivide la vostra stessa passione fa davvero piacere. Per cui mi congedo salutandovi, facendovi a tutti un caloroso in bocca al lupo, non soltanto agli atleti ma anche a chi si cimenterà nell'organizzazione, compito tutt'altro che facile e speriamo di vederci in pista, speriamo di vederti in circuito a pedalare assieme, da Alex Zanardi ciao e in bocca al lupo!